Dramma infinito per il settore del betting italiano, non solo nuove tasse sulla raccolta delle scommesse, un balzello mal digerito da esercenti e bookmakers, ma mentre si riaprono bar, ristoranti, parrucchieri e negozi, il governo invece ha disposto la chiusura delle agenzie e delle sale scommesse almeno fino al 14 di giugno e non più il 5 come si sperava. Il decreto firmato dal premier Conte e dal ministro della Salute e Speranza non è affatto piaciuto ai frequentatori ma soprattutto agli addetti ai lavori del settore che parlano di un mercato letteralmente in ginocchio sotto i colpi del lockdown e della sospensione degli eventi sportivi. Attualmente in molti paesi hanno però ripreso a giocare dunque con le dovute misure di sicurezza e distanze non si capisce perché l'apertura sia stata rimandata e si continua a soffrire a masticare Amaro. Donato Giuliano è il titolare di una sala scommesse. Anche perché siamo attrezzati quindi voglio dire in base in base alla metodologia del locale uno potrebbe dire potrebbe contingentare l'entrata e l'uscita delle persone insomma voglio dire in modo totalmente sicuro adottando chiaramente tutte le misure necessarie e quindi non capisco perché perché la nostra attività deve essere denigrata in questo modo cioè è veramente assurdo anche perché 120 mila lavoratori circa del settore oramai sono senza stipendio senza lavoro e non si sa che fine faranno. Ci hanno aumentato le tasse dello 0,5 sui prelevi del preo e praticamente al posto di aiutarci ci hanno finito di affossare. E' una cosa che fa ridere proprio sinceramente un governo che sinceramente ce l'ha con le lobby delle scommesse quando non capiscono che la scommessa non è un gioco di azzardo ma è un gioco di abilità quindi è come il poker se sei più bravo vinci non è un problema basta conoscere le partite i risultati e tutto e quindi praticamente è un semplice gioco di abilità basta